È bufera sul sistema informatico usato dalla ASL per vaccinare le persone appartenenti alle categorie che possono farlo. In pratica sceglie il computer per zone di appartenenza. La ASL in tutta questa bufera ha dichiarato che le categorie prioritarie vengono rispettate, ma l'indignazione della gente corre anche sul web. In sostanza è il sistema che sceglie, scorrendo le manifestazioni di interesse che sono arrivate sulla piattaforma regionale. Dunque vengono individuati i nominativi per zona di appartenenza macro-area aziendale e le persone vengono contattate. In caso di mancata risposta il sistema sceglie un over 80 con caratteristiche simili. Nei giorni scorsi, proprio a Rete 8, la dottoressa Chiara Pasanisi, responsabile delle vaccinazioni dell'area dell'Aquila, aveva parlato di questo sistema di estrazione random, che a loro è sembrato più corretto e trasparente possibile, ma la gente non piace e le polemiche non si contano ormai. La notizia ha scatenato commenti di indignazione un po' da tutte le parti e anche da parte dei sindacati CGL, Cisle e Will, che sono intervenuti con una nota durissima in cui affermano che la casualità non risolve i problemi ma li amplifica e hanno definito quella dell'Asl un'approssimazione bella e buona. Contro il sistema ha tuonato anche Massimo Prospero Cocco a difesa degli disabili. Si stanno ultimando infatti le vaccinazioni al mondo di scuole e università, ma non a chi di loro ha patologie gravi o disabilità, perché non è prevista la vaccinazione Pfizer o Moderna. Una cosa inaccettabile, dovevano essere i primi, tuona Prospero Cocco.